Sono Ulrich Kramsteiner dell'Agenzia Casa Clima, vice direttore. Sono molto lieto che nella partnership che l'Agenzia Casa Clima con l'ASS di Modena per questa settimana della bioachitettura e dell'automotica intervenire su un concetto e su una questione molto importante che è il risanamento energetico degli edifici. Per cui abbiamo rappresentato i nuovi sviluppi del protocollo nuovo che è Casa Clima R. Abbiamo visto che nella certificazione energetica per edifici esistenti la metodologia, i protocolli o le procedure sono molto diverse e devono essere differenziate dai protocolli ed edifici nuovi. Qui abbiamo sviluppato un sistema nuovo, anche molto innovativo, per dare un aiuto soprattutto a chi vuole oggi risanare in modo qualitativamente alto ma anche dare poi una possibilità di accertare questa qualità del risanamento. Qui in questo momento non sono solo venuto io ma anche altri consulenti Casa Clima che hanno dato dei contributi tramite esempi con questo protocollo. L'obiettivo è che il sistema Casa Clima R anche con l'aiuto dell'agenzia partner, la SS abbia uno sviluppo propositivo per migliorare non solo la qualità degli edifici nella provincia di Bolzano ma soprattutto nel territorio di azione dell'agenzia SS dove noi interveniamo anche tramite corsi, interventi, consulenza e certificazione.